È ormai giunta la sua quarta edizione Fiera Didacta Italia, la più importante manifestazione italiana sull'innovazione del mondo della scuola. È una manifestazione che racchiude eventi dove la scuola, la formazione a livello internazionale sono presenti con molti programmi. Quest'anno è stata un'edizione integralmente in versione online dal 16 al 19 marzo a causa della pandemia e dell'emergenza sanitaria. All'edizione 2021 ha partecipato anche la scuola di musica di Fiesole. Per parlare appunto dei trienni universitari che si svolgono nella nostra città da quando è arrivata la scuola di musica di Fiesole e hanno aperto CAMU, Casa della Musica. Un triennio universitario musicale ad Arezzo. Io nella fattispecie insegno una materia complementare che tra l'altro insegno anche qui al liceo musicale da 16 anni, che è pratica pianistica, che è una delle materie sì complementari ma fondamentali per il percorso formativo di un cantante, quali quelli che io seguo ma anche di tutti gli altri musicisti. Saper suonare il pianoforte è veramente importante nella formazione di un musicista.